Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Tartarughe Ninja. Eccezionalmente questo video viene pubblicato di lunedì e non di sabato, perché appunto non ce l'ho fatta, scusate, a pubblicare il video sabato come da consuetudine, ma questa settimana non volevo, questi giorni non volevo perdermi l'occasione, dato che è uscito finalmente il primo volume deluxe della ristampa di Tartarughe Ninja, della IDW, edito da Panini. Ci tengo a dire ristampa, perché quello che molti social, la stessa Panini, pare non dirlo molto, sembra quasi che sia una prima uscita, sembra quasi che finalmente sia arrivata in Italia, ma se per caso incappate in questo mio video proprio perché state cercando notizie e recensioni su questo volume deluxe, ci tengo a dirvi che questo volume è una ristampa dei primi 12 mini brossurati che sono usciti in Italia dal 2013, in America dal 2011. Finalmente viene ristampata in edizione deluxe proprio perché anche in America lo hanno fatto, anche perché la pubblicazione di questi brossuratini è stata molto sfortunata, molto irregolare, e tutt'oggi questi piccoli brossuratini non si riescono a trovare. Per chi volesse appunto recuperare la, diciamo, questa saga, non sarebbe riuscita a recuperarla, se non con molta difficoltà, fino ad ora, grazie appunto a questa nuova pubblicazione. Proprio per questo motivo ho iniziato, iniziai qualche tempo fa, a fare dei riassunti, recensioni, riassuntoni, chiamateli come volete, di questi brossurati proprio per le persone che non avevano modo di recuperare queste storie. Quindi se vi interessa a tal punto scoprire cosa succede dopo il primo numero deluxe che trovate in fumetteria e sul sito Panini Comics, vi metto qua sotto in descrizione il link per acquistarlo, potete iniziare dal video del Tartarue Ninja numero 13, e da lì dovreste scoprire il seguito, in attesa appunto che poi esca il secondo volume, se proprio volete farvi degli spoiler. Se invece, per qualche ragione, non potete, non riuscite, non volete comprare questo numero deluxe, ma comunque volete sapere di cosa parla questa storia, vi consiglio appunto di iniziare da Tartarue Ninja numero 1, vi metto sempre qua sotto in descrizione magari le due playlist su come iniziare, la playlist unica su come iniziare, poi scovate voi il video da dove partire, e dal numero 1 al numero 12 queste mie recensioni, questi miei riassunti, sono appunto il riassunto del primo volume deluxe. Quello che invece non si trova nei miei video e che è inedito in questa versione, è un racconto che appunto finora non era stato pubblicato in Italia, che troverete sempre in questo volume di alta, diciamo, alto valore anche di collezionismo, quindi io comunque vi consiglio di acquistarlo. Io non lo faccio per un semplice, per semplici questioni di spazio, ed è il fatto che a parte l'edizione, sono tutti i numeri che io ho già, tranne questo inedito, che vabbè ragazzi farò come Giangaleazzo e mi attaccherò al capo. Oggi invece per chi mi segue sempre, finalmente continuiamo la mia retrospettiva e parliamo del numero 17 di Tartaruga Ninja, edito dalla IDW in Italia, dal Panini Comics. Come abbiamo visto negli ultimi due miei riassuntini video, c'erano state delle storie, delle side stories, addirittura dei flashback, dove si era parlato appunto della storia passata di Orokusaki, Shredder, della storia passata di Krang, degli U-Tron, della storia passata di Baxter Stockman, insomma ci hanno un po' infarinato meglio sulla vita di questi villain. In particolar modo ci stanno spiegando bene questa versione di Orokusaki, che a differenza di tutte le altre versioni che abbiamo visto negli altri media che hanno portato la storia delle Tartaruga Ninja, in questa versione Orokusaki è fondamentalmente una specie di immortale che è vissuto nel Giappone feudale, è vissuto nel Giappone feudale e a sua volta nel Giappone feudale era una reincarnazione di un altro guerriero del Clan del Piede, un altro capo, un altro Junin del Clan del Piede, che ha portato il Clan del Piede, diciamo, un po' alla rovina dal punto di vista morale, facendolo diventare un clan di assassini spietati e con dei metodi molto brutali. Una volta che è stato spodestato da un onesto Junin, quindi da un secondo in comando, si è reincarnato nel figlio di questo Junin, che si chiama appunto Orokusaki, e appena in età adulta questo Orokusaki ha scoperto la verità su chi era nella sua vita precedente, grazie alla strega Kitsune, che è una strega che vuole manipolare appunto Orokusaki perché crede che in lui alberghi lo spirito di un certo guerriero dragone, che non è quello di Kung Fu Panda, appunto vuole manipolare Orokusaki in modo che prenda possesso di una città fatta di luci nel futuro, che poi appunto sarebbe la New York, e qua ci mostrano come Kitsune, ma soprattutto noi un po' lo sapevamo già noi spettatori, finalmente anche le tartarughe ninja ne vengono a conoscenza di tutto questo grazie a un libro, antico libro giapponese che hanno trafugato dal clan del piede, vengono a scoprire questo, che la strega Kitsune ha fatto in modo di immergere Orokusaki nel mutageno che è stato dato proprio da Krang, dato che i Neutron viaggiano anche avanti e indietro nel tempo sulla nostra terra, quindi Krang o comunque qualcuno della stirpe di Krang o Neutron aveva già visitato la terra in passato, l'avevano visitata nella preistoria rapendo i Triceratopi per farli diventare i loro guerrieri Triceraton, sono tornati nel Giappone feudale per fare l'accordo con Kitsune e dare il mutageno per far vivere Orokusaki in questa specie di camera di sospensione in cui il corpo di Orokusaki è rimasto, diciamo, dormiente fino ai giorni nostri. Nei giorni nostri ci hanno spiegato appunto che il sangue di Karai, che in questo contesto non è la figlia di Orokusaki ma è una sua pro-pro-pro-nipote, il sangue di Karai immerso in questa vasca di mutageno ha fatto ritornare in vita Orokusaki al nostro tempo che poi ha ripreso appunto il comando del clan del piede e però si è ritrovato tra i piedi una sua vecchia nemesi, ovvero Amato Yoshi. Amato Yoshi in questo caso è una reincarnazione, lo dico per chi appunto segue magari il video per la prima volta per motivi citati in precedenza, Amato Yoshi non è un guerriero del clan del piede giapponese di questi giorni ma è un guerriero del clan del piede giapponese, sempre del Giappone feudale, che si ribellò a Orokusaki perché non condivideva i suoi metodi brutali e venne appunto ucciso dal clan del piede stesso su comando di Orokusaki. Questa sventura portò Amato Yoshi a rivivere per cercare vendetta nel tempo presente. Il caso ha voluto che Amato Yoshi e i suoi quattro figli naturali rivivessero nel topolino splinter e nelle quattro tartarughine del laboratorio in cui April O'Neil faceva la stagista. Queste quattro tartarughine, questo topo splinter, sono venuti a contatto con il mutageno e sono diventati, diciamo, umanoidi e hanno ricordato chi più chi meno, soprattutto splinter se le ha ricordato le tartarughe un po' meno, la loro vita precedente. Quindi in una sorta di connubio tra origini mistiche e origini fantascientifiche, un po' come è stata la rivisitazione dell'origine dell'uomo ragno con la saga dell'altro e del totem ragnesco, qua abbiamo questa doppia origine che già conoscevamo, quella scientifica e quella mistica che inizialmente mi ha fatto un po' storcere il naso, ma adesso che ci stanno spiegando tutti questi retroscena sta diventando davvero molto interessante, dei nostri eroi. Una cosa che mi ha fatto storcere particolarmente il naso è che le tartarughe ninja in questione non hanno 15 anni ma ne hanno semplicemente uno, hanno un anno di vita dalla loro mutazione però appunto sono adolescenti perché erano adolescenti nella loro vita precedente in un certo senso e quindi hanno messo una pezza in questo modo. Ecco, io comunque avrei preferito che avessero lasciato questa idea di adolescente, avrei preferito che avessero insegnato in 15 anni le arti marziali, invece sono arti marziali che hanno imparato meglio quest'anno, in questo ultimo anno e che comunque si ricordavano dalla loro vita precedente. Questo appunto l'ho voluto dire proprio per le persone che si stanno affacciando ora al primo numero, leggeranno appunto nel numero dell'AX questa nuova storia. Ecco, se per caso come a me questa cosa non vi piace molto, stringete i denti e andate avanti a leggere perché è davvero una delle edizioni migliori delle tartarughe ninja che potete mai aver letto, quindi passate oltre questa cosa. Se invece questa cosa vi entusiasma perché è una ventata di areia fresca, ben venga, siete nel posto giusto. Allora, in questa storia appunto vediamo tutto questo flashback che ho appena narrato e vediamo appunto come Rokusaki si è risvegliato in questa pozza di... sembra un po' il pozzo di Lazzaro ma fatto col mutageno e pronto a conquistare New York. Ovviamente è un piccolo flashback perché Shredder è già attivo da diversi numeri, da almeno una ventina di numeri su questo... su questa storia. E l'ultima cosa che abbiamo imparato è che appunto nonostante il professore che il clan del piede ha rapito e che poi è stato salvato dalle tartarughe ninja per leggere questo manufatto ma poi diciamo ha offerto comunque spontaneamente i propri servizi al clan del piede perché Splinter e le tartarughe ninja vogliono distruggere questo libro, questo manoscritto per evitare che Shredder entri in contatto con più conoscenza di quella che dovrebbe possedere mentre il professore proprio perché ha studiato tutta la vita su queste tradizioni giapponesi non vuole assolutamente che il libro venga distrutto e di conseguenza sta dalla parte delle clan del piede. Nonostante il professore sia tornato al nemico abbiamo scoperto che Michelangelo proprio perché è una rincarnazione e questa cosa la conferma Michelangelo naturalmente in maniera totalmente spontanea è in grado di leggere, capire il giapponese feudale. Quindi se c'era qualche dubbio per lo scettico Donatello che non ha mai creduto molto bene a questa cosa della rincarnazione viene trafugato anche da questo. Quindi Michelangelo con la sua apertura mentale, con la sua fluidità di spirito riesce a connettersi al meglio con la sua versione passata di se stesso e comprendere il giapponese. Molto molto bella questa chicca che hanno messo sul più giovane, sul più bimbo dei quattro fratelli ninja. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, spero di avervi messo una curiosità ulteriore in modo che acquistiate anche il secondo tomo quando uscirà e che vi unniate appunto a questa piccola famiglia che voglio creare sul mio canale di Tartafan, Tartamanieci. Vi ricordo anche che se voi mi seguiste su Twitch in questi giorni sto giocando a Tartaruga Ninja Shredder's Revenge che è uscito in questi giorni in digitale per le varie console, uscirà il 29 luglio in forma fisica se siete interessati e sicuramente a fine anno quando uscirà il Kawabanga Collection comprerò anche quello e ci giocheremo assieme, nel senso che io giocherò e chiacchiereremo insieme in chat. Quindi seguitemi anche su Twitch e su Instagram per rimanere aggiornati su tutto quello che faccio in generale. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui, come sempre con l'inchino, con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.